Non fingete di non ricordare nessuno vi crederebbe. I versi di Little Tony in questi primi giorni di agosto non possono che tornare alla memoria. Erano gli anni 70 quando la Pacific Princess, la nave da crociera divenuta celebre per aver ospitato la famosa serie televisiva Love Boat, cominciò a solcare le onde. Un viaggio durato più di 30 anni se si considerano le infinite repliche che i vari canali televisivi fino a poco tempo fa hanno riproposto portando nelle case i volti rassicuranti del capitano Meryl Stubbing. La direttrice di crociera Julie McCoy, il barman Isaac Washington, la figlia del capitano Vicky Stubbing, il dottore Adam Bricker, ma anche gli immancabili intrighi d'amore che nascevano e si spegnevano nel tempo di un tramonto sul mare. Da cinque anni la Pacific Princess era ferma al porto di Genova in seguito al fallimento della compagnia Quail Cruises, la quale aveva acquistato il natante per tentare un restyling al fine di rimetterla a mare e offrire crociera nel Mediterraneo. Prima ancora vi era stato anche un sequestro nel porto di Pireo per il rinvenimento a bordo di 25 kg di eroina, frutto del contrabbando di due uomini di equipaggio filippini, ma il destino, Pearl of Boat, aveva scritto una pagina diversa. La Pacific Princess infatti ha lasciato il porto genovese con timone puntato verso la Turchia, dove verrà smantellata. Costo dell'acquisto 2,2 milioni di euro. Dopo i rumors relative agli acquisti da parte di commercianti di rottame della costa Allegra e del relitto tristemente noto della costa Concordia, anche questo romantico pezzo di storia televisiva fa così rotta su Ankara. Forse era solo da un momento Tutto 2,3 milioni di euro.